Sono certo che negli ultimi tempi hai sentito molto parlare di IPTV. E sicuramente sempre il negativo. Questa tecnologia è stata descritta un po' come il male assoluto ed è stata associata a concetti di illegalità e pirateria informatica. Ma è veramente così? La risposta è no. L'IPTV è solamente un protocollo di trasmissione dati, cioè un metodo come un altro per trasmettere attraverso internet dei contenuti audio e video, generalmente definiti flussi. Ti devo fare un paragone molto semplice per poter capire di cosa stiamo parlando. L'automobile è un mezzo di trasporto. Se tu la usi per spostarti da casa al lavoro, ne stai facendo un uso lecito. Se la usi per sfondare la vetrina di un negozio, ne stai facendo un uso illecito. Sembra un esempio banale, ma è molto importante per capire quello di cui ti sto parlando. Servizi televisivi e articoli hanno accomunato i servizi IPTV e illegale per via del pezzotto, cioè un piccolo decoder Android da collegare al televisore che ti permette di vedere tutte le TV a pagamento mondiali. Non è gratuito, ovviamente. Si richiede di solito un abbonamento da circa 10 euro al mese. Ora, se pensiamo che l'abbonamento base di Sky probabilmente costa più di 10 euro, è chiaro che questo è un uso illecito dell'automobile di cui parlavamo prima. Ma l'IPTV può anche essere legale. Sky Go ne è un perfetto esempio, così come ad esempio lo sono i programmi trasmessi in diretta su replay o su internet comunque da quelle TV che consentono di vedere i propri canali attraverso il loro sito o tramite la loro app direttamente sul tuo smartphone. Ora è più chiaro l'esempio dell'automobile, immagino. Non è lo strumento a essere legale, ma è il suo eventuale uso illecito. Un'altra distinzione che dobbiamo fare riguarda la differenza che esiste tra i vari servizi di IPTV. Esistono infatti video on demand, live streaming e misti. Come ti ho detto prima, IPTV è solamente un protocollo di trasmissione dati che poi ognuno utilizza come meglio crede o come più comodo per le proprie esigenze, insomma. I servizi di live streaming sono quelli basati sul concetto di televisione tradizionale, cioè c'è un palinsesto deciso da qualcuno che viene trasmesso in rotazione. Tu che lo guardi non puoi decidere cosa guardare, puoi solo cambiare canale eventualmente. E questo infatti è un concetto che l'utente moderno non condivide più molto in favore dei servizi misti o di VOD. VOD non è niente di strano, significa video on demand ed è traducibile in video su richiesta, cioè ti abboni a una piattaforma che trasmette dei contenuti quando vuoi tu. Scegli dal catalogo cosa vuoi vedere, schiacci play e lo guardi dove vuoi e quando vuoi. Netflix è l'esempio più lampante. C'è un vasto catalogo di film, documentari e show registrati. A te non resta altro che scegliere cosa guardare e quando. Non esistono dirette e non esistono orari da appuntarsi. Se vogliamo ben vedere anche questo podcast rientra nei servizi on demand perché parte proprio quando vuoi tu. Esempi di servizi misti sono ad esempio SkyQ, Mediaset Play, Rayplay e Youtube. Sono piattaforme che offrono trasmissioni sia in tempo reale, quindi tradizionali, che contenuti su richiesta. Scegli lo youtuber che ti piace e guardi. Questi servizi hanno sicuramente cambiato il modo di fruire i contenuti. Io ricordo che fino a qualche anno fa mi appuntavo l'orario dei film o delle trasmissioni per non perdermele e se me le perdevo era una tragedia perché dovevo aspettare una replica o qualcuno che l'avesse registrato. Oggi questo non lo faccio più perché se me lo dimentico so benissimo che posso recuperarlo tramite i video on demand. Ma è sempre così? Devo ammettere con dispiacere che purtroppo no. Spesso mi dimentico di riguardarli o magari ne accumulo troppi e non riesco poi a rivederli. Il non avere un appuntamento imperdibile purtroppo porta anche a questo. E mi sono reso conto di un'altra cosa. La mia soglia d'attenzione durante una trasmissione è calata e di parecchio anche. Ormai abituato ai contenuti su richiesta e al live streaming che permettono di mettere in pausa. Mi rendo conto che mi distraggo spesso con lo smartphone, con i pensieri, con un messaggio, con un giro su Facebook. E mi rendo conto di questo quando guardo la tv tradizionale. Cerco il tasto pausa, cerco il tasto rewind per andare indietro i 30 secondi e non c'è, non posso farlo. E ci rimango male, veramente. E lì appunto mi rendo conto di quanto la mia soglia dell'attenzione sia calata. E tra le altre cose ho scoperto che non è così solo per me. Ci sono degli studi che hanno approfondito questa cosa, studi che vorrei provare a portare anche qui nel podcast, che non ci fanno fare una bella figura, devo dirla tutta. Comunque anche per oggi è tutto. Io ti invito come sempre a guardare tecnoriflessioni.com per approfondire e rileggere magari il testo di questo podcast. E ti lascio alla citazione della settimana. I tempi non sono diventati più violenti, sono solo diventati più televisti. Marilyn Manson. Ciao! 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 Ciao!